Il rispetto degli ospedali, dei luoghi di culto, eccetera, è fondamentale, è un aspetto fondamentale del diritto internazionale umanitario, quindi non c'è nessuna ragione per usare gli ospedali per qualsiasi azione di guerra, diciamo, manipolare e reagire, quindi la condanna è totale. Abbiamo sempre fatto presente che c'era la Chiesa Cattolica, c'erano le persone, eccetera, abbiamo ricevuto anche assicurazioni, però lei sa bene che la guerra, ecco, non è che faccia le distinzioni, arrivo fino a qui e poi lì mi fermo, no? Il problema è arrivare davvero a un cessato il fuoco, a una tregua, ecco. Siete preoccupati di un possibile completo esodo dei cristiani? Certo, adesso non sappiamo appunto quali saranno le conseguenze a livello di comunità cristiana, ma una delle ragioni fondamentali dell'esodo dei cristiani in tutti i paesi del Medio Oriente sono stati sempre i conflitti, sono stati i conflitti che hanno portato i cristiani ad andarsene per trovare sicurezza e pace in altri, immagino che anche questo contribuirà certamente a continuare e forse ad aumentare anche l'esodo dei cristiani, che è una realtà drammatica, ecco, in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. Grazie.